Oggi è la giornata nazionale per ricordare le vittime degli incidenti sul posto di lavoro. Solo nel 2023 sono 657. Questo è lo scandalo italiano, ha detto il capo dello Stato Mattarella. Il Presidente della Repubblica lo definisce uno scandalo, un fardello insopportabile per le coscienze di tutti. Nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, Sergio Mattarella lancia ancora una volta un fortissimo monito. L'intollerabile e dolorosa progressione delle morti e degli incidenti sul lavoro, dice il capo dello Stato, sollecita una urgente e rigorosa ricognizione sulla condizione di sicurezza nelle quali si trovano ad operare i lavoratori. Un invito pressante, quello del Presidente, a passare ai fatti. Un impegno corale che rivolge a istituzioni, aziende, sindacati, agli stessi lavoratori, a chi gestisce i luoghi di formazione. Una necessità impellente affinché si diffonda una vera cultura della prevenzione. Lo indicano anche gli ultimi dati, in base alle cifre fornite dall'associazione che rappresenta tutti gli invalidi sul lavoro. Nel 2023 ogni giorno tre persone perdono la vita mentre lavorano. Duemila gli infortuni, una strage silenziosa, la definisce l'ANMIL. Altri dati sono arrivati dall'ultimo rapporto dell'INAIL. Nel 2022 sono state 1208 le vittime, il lieve calo, ma solo perché sono diminuite le vittime di Covid, contratto sui luoghi di lavoro. Da gennaio ad oggi se ne contano 657. Tutto questo è inaccettabile per un paese civile, dice ancora il Presidente della Repubblica, soprattutto quando dietro agli incidenti si scopre la mancata o la non corretta applicazione di norme e procedure. Un problema di cui si parla ad alta voce quando accadono fatti di cronaca, come la strage di Brandizzo, ma che si ripete quotidianamente lontano dai riflettori e che necessita di una pianificazione puntuale a partire da uno dei capitoli più spinosi, quello relativo ai controlli. A fronte di circa 4 milioni di imprese ci sono solo circa 5.000 ispettori del lavoro, un numero assolutamente insufficiente che ora si sta cercando di colmare con nuove assunzioni. La sicurezza non è un costo, conclude il Capo dello Stato, né tantomeno un lusso, ma un dovere cui corrisponde un diritto inalienabile di ogni persona.